Con l'azione di oggi Greenpeace lancia una campagna che è anche un'investigazione per portare a galla tutta la sporca verità sul business del carbone che questa azienda porta avanti da anni, che vuole incrementare, sul quale vuole continuare a fare sempre maggiore profitto scaricando sulla collettività e sull'ambiente i danni e le ricadute delle sue scelte industriali sbagliate.